bella raga sono gdc youtube oggi ragazzi siamo qui tornati con la nostra routine box che ci mancano tipo 10 pacchetti quindi abbiamo tantissimo ancora da spacchettare apriamo oggi ci prenderemo 3 pacchetti e nel prossimo episodio ci ne prenderemo solamente 2 perchè mi va me li voglio far durare di più raga ecco perchè la verità è questa va bene direi di iniziare così iniziamo attenzione Roma ragazzi Roma non so chi manca di importanti della Roma attenzione un albanese con bulla proprio lui Vavro Tonelli e il codice comunque con bulla mi sa che è tipo infortunato è del 2000 what what the fuck apriamo un altro pacchetto ragazzi spacchettiamo come di boh Alberto Alberto Urso della Nazionale Cantanti Pussetto Olsen e Cigarini Pussetto mi ho trovato Pussetto perchè c'è stato un periodo che Pussetto era esploso tipo 2 anni fa Pussetto era una forza incredibile sovrannaturale proprio Pussetto vabbè andiamo avanti con l'ultimo pacchetto attenzione ragazzi Roma non so chi potrebbe essere un altro della Roma per questo chi è Villar di nuovo Spal Zola ragazzi questo qua è il giocatore più forte della serie ha fatto 10 partite anzi 11 7 gol cioè ragazzi è il bomber sull'ultimo di Pisa e basta ma ragazzi visto che a me non piace spacchettare solo 3 ne apriremo ben 5 pacchetti non so sta già finendo questa team box però ok che poi ci rimangono questi pacchetti come potete vedere e noi ne prenderemo altri due ragazzi e poi ci rimarranno questi qua andiamo con l'altro pack se riusciamo a spacchettare bene ragazzi vogliamo trovare Lukaku Ibra allora squadra che squadra sarebbe questa Florentia tipo sarebbe la Fiorentina ah facciamo così ve li faccio vedere a voi io aspetto vediamo se si vedono non so Farago Venezia Galabino Cigarini di nuovo no ah dove è l'altro pacchetto eccolo qua eccolo qua l'altro pack nel prossimo episodio proveremo tipo a mettere il 3p di qua tipo più al centro tipo qui e metto le mani qua e spacchetto serve anche più comodo senza essere a fare tipo così allora cremonese empoli zappa ruggeri Lautaro martinez Lautaro martinez Lautaro martinez Lautaro martinez e andiamo e andiamo proprio lui proprio lui Lautaro Lautaro martinez che carta Lautaro martinez E andiamo No la carta Dov'è? Mi è andata a finire sotto il divano Ma ma la prendo Dov'è? Non la trovo No non la trovo Va beh Un attimo Devo un attimo Squadrare la corsa Eccola qua la carta L'ho trovata Mi son preso un colpo Eccola qua Piena di polvere Eccoci qua Perfetto Lautaro Martini Lautaro Martini Guto Ma domino male Ci siamo salvati Non sapevo chi mettere in copertina Cioè Non avrei messo nessuno in copertina Veramente All'ultima carta Chi troviamo? Proprio lui Lautaro Martini Abbiamo finalmente Il primo attaccante dell'Inter Finalmente Alla ricerca di Lautaro Martini L'abbiamo trovato Ma manca adesso La coppia Lukaku Manca adesso Manca adesso Proprio lui Romelu Lukaku Va beh Abbiamo con questo Questo episodio Il mio legione E lui Non mi frega niente Lautaro Martini Va bene Godo Abbiamo trovato Anche se a diravetta Pussetto Nzola Va beh Però è meglio Lautaro Aspetta Però metto anche Nzola Tra i migliori Devo trovarlo raga Eccolo qua Nzola E Vado Nzola Che poi Nzola è più vecchio Vabbè di un anno Vabbè ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Abbiamo trovato Dottor Martinez Bella